Visioni Sociali è un'associazione che si occupa di comunicazione, video che cercano di rappresentare la realtà sociale. Il pubblico è un pubblico molto diversificato, destinato quindi ad adulti, giovani, scuole, associazioni. Come dicevo, questo bus è accessibile anche alle persone con disabilità, ma anche come forma di riconversione per farlo diventare una videoteca e mediateca itinerante in cui proporre alle persone che vogliono la visione di film, documentari, attraverso cabine e un luogo proprio anche di laboratorio e di incontro per realizzare progetti legati alle inchieste e al video.